Bella Free Withers, stiamo finalmente andando per chiudere la manifestazione che si farà a settembre. Ormai è ufficiale, pare sicuro che ci sarà una doppia manifestazione, quindi ci sarà un ritrovo per chi vorrà, sicuramente dovrà essere partecipato, importante, infrasettimanale, il giorno della votazione. Se verrà rinviata, ci si presenta la seconda volta, fa niente lo stesso la settimana dopo, sempre infrasettimanale. Ovviamente questo sarà un ritrovo per chi sarà in zona, per chi vive a Roma, ma a Roma ci sono milioni di persone, quindi sicuramente si può fare comunque un ritrovo importante, almeno una sessantina, settantina, centinaia o duecento persone. Questo sarebbe importante. E poi concentrare almeno mille persone in un ritrovo che sarà un sabato, probabilmente si sta orientando verso il 18 di settembre, ancora non è sicuro, probabilmente sarà in zona Piazza di Pietra o situazioni simili, comunque molto centrali, cambierà poco, ma speriamo di annunciare a breve almeno il giorno, così da fissare il giorno almeno il sabato. E poi ovviamente il giorno invece infrasettimanale quello lo avremo soltanto all'inizio di settembre purtroppo, mentre questo lo cerchiamo di fissare prima, cercare almeno di darci un calendario noi e cercare di mantenerlo, perché appunto è complicato tutto questo, ma cerchiamo di giocare d'anticipo. E allora sicuramente nelle prossime ore arriverà un aggiornamento, ci auguriamo magari entro domani sera, con il giorno fissato per la manifestazione di Roma, dove manifestazione Raduno, dove gli attivisti si ritroveranno per cercare di pressare per l'approvazione del DDL per Antoni. Bella a tutti i free readers e noi ci aggiorniamo presto. Fino alla libertà.